giorni sempre più caldi per quanto riguarda questa campagna elettorale che inizia ad entrare nel vivo anche se un po' tutti i partiti parlano ancora di candidature però per qualche altro giorno poi da sabato domenica comincia la campagna elettorale la ricerca del consenso e spiegare ai nostri concittadini perché devono votare nel nostro caso per il partito democratico abbiamo sollevato in questi giorni qualche osservazione relativamente alla forza, alla coerenza delle nostre liste perché siamo preoccupati dell'esito elettorale, vediamo anche il dibattito nazionale in queste ultime ore, in questi ultimi giorni inflazionato di nuovo dalla presenza dell'ex presidente del Consiglio Berlusconi, dell'attuale presidente del Consiglio Monti caleranno dei big nazionali in questo territorio e abbiamo avuto l'impressione, lo abbiamo detto appunto in questi giorni che ci presentavamo all'appuntamento un po' debolucci ma tant'è Forse in quest'ottica quindi rientra anche la vostra polemica sui cosiddetti paracadutati o raccomandati il popolo dice perché il PD di Salerno si occupa di Campania 1 che non è la stessa circoscrizione? No, noi non è che ci occupiamo, noi ci occupiamo di politica, non è che ci occupiamo di Campania 1 Noi siamo preoccupati perché un partito che vuole governare l'Italia e che vuole trasformare un grande paese come l'Italia e che si vuole mettere a capo di un lavoro difficilissimo, doloroso, duro che è quello di migliorare le condizioni nelle quali ci troviamo deve essere un partito in grado di essere coerente e soprattutto conseguente alle cose che dice noi alle primarie avevamo detto che i candidati sarebbero stati quelli che uscivano dalle primarie il fatto che continuiamo a essere la forza politica che non fa quello che dice è una cosa che ci preoccupa perché i cittadini guardano alle coerenze quindi noi stiamo sollevando una questione in modo molto civile, molto pacato non è una polemica interna ma è semplicemente il senso di responsabilità che ci muove